Pergine Alor, attacca a fondo Prestigia e salto interno, più dentro c'è Pontebba, cresi di una linea all'imbocco della prima curva, Prestigio scavalca Pontebba, Pontebba galetta, poi Pergine Alor, va ad attaccare Prestigio, nelle retrovie galoppa anche Panamadete, in terza posizione Patul, che precede piccola Roby Thorne, in quinta posizione troviamo anche Parideni, in sesta poi Anagliff, 14 e 6 lancio, primo quarto in 31, ritorno al comando Prestigio, nei confronti di Pergine Alor, che precede Patul, poi piccola Roby che si prepara a venire all'arco, seguita da Parideni e poi Anagliff, 45,8,600, Prestigio a comandare, 2,89 la sua quota per il vincente, 2,62 invece paga Pergine Alor, e 67 piccola Roby Thorne che interviene all'arco, seguita da Parideni e poi Anagliff, 1,27 gli 800, Prestigio Battistrada, chilometro in 18,1, spinge all'arco piccola Roby Thorne, si apposta a Parideni, schiena di passo per il 4 per Pergine Alor, allunga bene Prestigio a essere, su piccola Roby Thorne, interviene però Parideni, seguita tra l'altro da Poianagliff, Parideni sembra molto incisiva, attacca a fondo la Lideri, i due lottano, poi piccola Roby Thorne, battuta con Cusine, viene un po' più un'arco a Parideni, proprio per far meglio lo spunto, passa nelle mani di Mario Minopoli, al secondo Prestigio a essere, al terzo piccola Roby Thorne, Beneric e poi Anagliff.